. O con tilde Y con accento acuto . . Yen, I, X Y con accento acuto. Ia con con accento acuto 4. KBS Copyright News 1. Aperta parentesi chiusa parentesi aperta parentesi chiusa parentesi uguale 4. 44 uguale 4. Barra rovesciata I, X Y con accento acuto chiocciola Y. A con dieresi U con dieresi dollaro a con dieresi 7 o con dieresi 55. Esclamativo rovesciato P, dollaro 3 o con accento circonflesso 11 barra verticale. . Di pa a con dieresi. . 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